Buonasera a tutti voi da Marco Speso, ma soprattutto dalla Watch & Clock, puntata di oggi 789, quella che è a cavallo della Pasqua e noi ragazzi, non so dove siete voi, ma a Milano, nell'area del negozio, è già festa, funziona così in città, quando finiscono le scuole finisce un po' tutto il movimento, è pazzesco, Milano è proprio… Ok, allora saluto tutti gli amici, saluto primo in assoluto Angelo, Angelo grazie per gli auguri che mi hai fatto via Whatsapp, Angelo è il mio caro amico dei quattro, ma Angelo devo un occhio di riguardo. Poi saluto anche Livio, Michael e Alessandro, ma Angelo è a una spanna sopra, ragazzi non ve la prendete, ma io Angelo lo devo mettere, perché è una persona pazzesca, una persona purtroppo che ha una brutta malattia, e che però mi sente sempre, forza e coraggio, andiamo avanti. Ragazzi, allora saluto anche i miei amici, quelli che vanno al parco la domenica mattina, che mi dicono, spedo, non me ne frega niente di vederti, però fammi la trasmissione, perché io la mattina vado al parco a camminare, a correre quello che è e ti ascolto. Quindi mi fa molto piacere che non sono solo soporifero, perché c'è anche qualcuno che mi vede la sera, la notte e si addormenta, quindi non solo perché si addormenta, ma anche per chi va veloce. Quindi saluto il mio amico Marcello di Ravenna, che ha un negozio che si chiama Sianelli, era un negozio top, pensate che questo signore faceva televisione quando io avevo 27, 26, 27 anni, pazzesco, passati, adesso mi tocca dire quanti anni ho, vabbè, 40 anni e lui è ancora lì, e chi l'ammazza? Lui è lì e uscirà come me dal suo negozio con i piedi davanti. Va bene, un bacione al mio caro amico e saluto tutti gli amici che, come dire, gli emuli, coloro i quali la domenica mattina siete in tanti, perché più di almeno tre mail, no, tanti davvero, va bene. Allora, ricordo che la voce in crocchia a Milano, noi siamo a vostra disposizione, anche per acquistare. Ah, a proposito degli acquisti, ringrazio le persone, sono solo due per il momento, collezionisti che mi hanno ricontattato perché hanno sentito le mie parole quando io ho detto ragazzi, se avete dei pezzi, se vi siete rotto le scatole di quello che avete, perché, questo è l'esempio delle persone che vengono, e sono sicuro che ce ne sono tante, viene questo signore, mi dice, guardi che c'è un libricino addirittura, con il giorno che l'aveva comprato, quanto l'aveva pagato, che cosa è, cioè chiaramente un signore così che orologi ha, orologi da manicomi, cioè pazzesco, degli orologi di 30, 40, 50 anni nuovi. Sì, va bene, e chiaramente mi dice, guarda, le mie figlie non gliene frega niente, altre pareti non ne ho, quell'altro mi è antipatico e non voglio che li abbia, sai cosa ti dico? Ho deciso che li vendo, così col denaro poi dividi. E quindi siete, non in tanti, tante persone che hanno collezioni e che sono leggermente in impasse, non voglio dire in difficoltà, ma che non sanno come fare per venderli. Ed ecco magicamente lo spedo che appare ed è qui a risolvere il problema che voi avete, o perlomeno cerco di risolverlo. In che modo? Visto che la massima e il comune denominatore vostro è non ho bisogno di vendere e non ho bisogno di soldi, queste sono quelle cose che un commerciante quando le sente vorrebbe ammazzare, gli dici, vai, allora che sono molto a fare, vai. Con quest'ottica io mi metto dalla vostra parte, perché io mi metto anche dalla vostra parte per cercare di dire delle cose che abbiano una logica per cui io, che io vorrei sentire se fossi nei panni vuoti. Io posso comprare la collezione e ovviamente se faccio il commerciante io tiro il collo come una gallina, è chiaro? Questo qui è un momento catartico. O altrimenti, meglio, per tutti voi ma anche per me, devo essere sincero, mi lasciate quello che chiamiamo conto vendita. Avete 20-30 orologi, non li voglio 20-30 orologi, me ne date due, scegliamo insieme, anzi voi scegliete quali vendere per primi, pasturiamo, li vendiamo con partimenti stagni, pago quello che ho venduto, me ne ridate altri due, ok, così funziona. Questa è una cosa che è utile per voi e anche per me, non vorrei che voi, ecco, lo dico perché c'è qualcuno che mi dice, spero, tira fuori i soldi e compra gli orologi, non fare pezzente che non compro. Ma ragazzi, ma non è questione di pezzente, io li compro, ma siccome a fronte di una idea che va a cozzare contro l'idea, cerchiamo di trovare delle cose che funzionano. Quindi questo, cari signori, si chiama servizio pubblico. Oggi mi piace scandire le parole perché va bene. Va bene, adesso presentiamo un po' di orologi e dopo poi proseguo con quello che stavo dicendo perché è una cosa molto interessante. Qui abbiamo Dayjust, vetro zaffero, referenza 16-018. Allora, l'orologio come periodo è uno dei primi anni, vetro zaffero, ok, quindi 82-83. Guardate, vediamo se riesco a farvi vedere la lavorazione del quadrante, sì, adesso lo prendo, è meglio che lo prenda così. La lavorazione, eccolo qui, vediamo, eccolo qui. Vedete la lavorazione del quadrante Guilloche? È bellissimo questo quadrante, l'orologio è in condizioni perfette, richiesta 8.900 Euro la garanzia del negozio. Tenete presente che è un gradino al di sotto del Day-Date, Day-Date con 40 e nero sono quelli che hanno il prezzo generalmente, quel cittuino pelle è più caro, ok? Andiamo avanti e passo subito al Daytona Zenit 16-520, scala tattimetrica 225, il quadrante 4 più 1, Cosmograph Floating, lo vedete, ok? Interessante, c'è là, non c'è la garanzia ma c'è il service Rolex di questo orologio, ok? Molto importante, non solo, abbiamo anche le istruzioni, c'è tutto, c'è anche il prezzo, vi posso dire, 45.000, qui a vostra disposizione, ho deciso col cliente, ci siamo guardati negli occhi, mi hanno detto ragazzi qui dobbiamo fare, se dobbiamo vendere dobbiamo mettere una cifra che abbia una logica conseguenziale. 45.000, questo Daytona è un Mark II, sarebbe Mark I se avesse, vedete all'altezza della corona c'è la scala tattimetrica che finisce, cioè che ha, non finisce, ma ha il 225, questo è il Mark II, forse Mark I avrebbe il 220, non lì ma sarebbe solo 220 e non andrebbe su fino a 400, ok? Molto bene, adesso vi faccio vedere un altro, oggi vi faccio vedere i pezzi ragazzi, questo addirittura nella plastica, vabbè, vi faccio vedere nella plastica perché è sigillato, allora questo non è sigillato dal salumiere, questo è sigillato dalla Patec, codice a barre e tutto, lo dico perché ogni tanto sento delle sciocchezze, allora, o non sono delle sciocchezze, ma non riguardano di certo noi, lo spedo è una persona corretta se vi dico che è sigillato e sigillato. Stiamo parlando, per quelli veloci, vedete la zona blu in centro, indica platino, allora questo è il numero uno dei numeri uno dei 51-30 che è le ore del mondo, in assoluto, non il più bello che lo dice lo spedo, ma che l'avete deciso voi, è in assoluto quello che è piaciuto più di tutti. Tenete presente che quelli nuovi hanno fatto poi questo è il 51-30, hanno fatto il 52-30 e andate a vedere, questo è molto più bello, non perché lo decido io, ma perché la ghiera invece di essere bombata è incava e quindi il risultato finale dell'orologio piace meno di questo. Da lì poi tutti quelli che hanno fatto dopo costano un botto, soprattutto se prendete il platino e sono meno belli, questo è fantastico, sigillato ed ha un prezzo pazzesco, nel senso che effettivamente 89 mila è la richiesta. Ok? Andiamo avanti, qui oggi abbiamo un Boy, il Boy con scatola e garanzia del 98, l'orologio è in condizioni super, vedete il bracciale, è un pari al nuovo, vedete che c'è ancora il bollino verde al retro, è in condizioni super eccellenti, 6.000? No, neanche 6.000, 5.8, 5.8, pazzesco. Andiamo avanti, vi faccio vedere l'Explorer 2, 16, 570 nuovo, l'anno è un 2.000? Ma non è 2.000? 2.300 per caso? Eh? Ah, è calibro 31.86 per cui è 2.900, ok, ne abbiamo diversi, eh? Quindi questo è nuovo, completo, 31.86, calibro, prezzo su richiesta, non ve lo sto a dire perché già ho litigato con un signore nella settimana, non ho l'esigenza di venderlo subito e poi abbiamo il Vashen Overseas, la referenza è 47040, il diametro è 42, l'orologio è in condizioni eccellenti, il prezzo 15.000 è praticamente il secondo, il terzo prezzo che troverete in rete e quando parlo della rete parlo di Crono24, ok? Ok? Molto bene, adesso proseguiamo con quello che stavo dicendo, dicendo prima, capisco appunto che questi signori che hanno collezionato degli orologi rimangono un po' in questa fase e non dico che hanno sbagliato, pensano però, uno dice ma io ho fatto bene a comprare questo, sì, hai fatto benissimo, quel mondo qua è un mondo che ha bisogno della scintilla, basta pochissimo e vedrete che ripartirà, quando? Non lo so, però vi voglio far ragionare un attimino, no? Prendete per esempio la Swatch che ha fatto quell'Omega che richiama il Moonwatch, hanno fatto un piccolo dettaglio, hanno messo lo Snoopy sulla fase luna, ma porca miseria, l'hanno presentato a Vittorio Emanuele nel negozio Swatch, pioveva, c'erano le code, hanno fatto vedere su TikTok, c'era la coda di 100-150 metri con la gente in coda sotto l'acqua per comprare questo Snoopy. Perché cosa vi sto dicendo? Che basta poco, c'è sempre l'interesse, c'è sempre, è solo che in questo momento stiamo pagando Dazio per tutta quella cosa che è stata la crescita esponenziale dei valori e poi la discesa dei valori. Quando tu hai questi picchi, cominci a perdere i riferimenti e quindi cosa si fa? Si fa che si sta fermi coloro i quali hanno collezioni e hanno anche dei dubbi, stanno fermi. Quelle persone che invece cominciano a avere una certa età e magari proprio in questa fase decidono che forse sarebbe meglio vendere per poter fare qualche altra cosa con quei quattrini, io il suggerimento ve l'ho dato. Siamo a vostra disposizione? Il vendicasse e pentiti, classico, cioè noi paghiamo ma tirando la coperta dalla nostra parte, oppure il conto vendita, che è quello che è un servizio che io ritengo molto interessante. Guardate che col conto vendita ho venduto degli orologi, che voi esseri umani potreste anche avere dei dubbi. Lo scheletrato di Odemar in Oro Rosa, l'ho venduto io, l'ho venduto io in rete. Il Day-Date che avevamo col quadrante Sodalite o Meteorite, sai che non mi ricordo più, era Meteorite, Meteorite venduto. Cioè quindi anche queste cose qua, poi ho venduto anche delle altre cose, però gli ultimi sono per chi ci segue magari da poco, avrà visto nelle altre puntate, quelle precedenti, questi oggetti non ci sono più o me li sono mangiati o li ho venduti. Vi garantisco che li ho venduti, non sto dicendo balle, non ho motivo per dirle, quindi se volete siamo a vostra disposizione. Un'altra cosa è, prima si usava meno Whatsapp, per cui io andavo dai clienti che magari avevano delle collezioni importanti per valutare insieme il da farsi e anche per suggerire come muoversi. Questa è una cosa che io faccio in ogni caso. Con Whatsapp però ci si può aiutare portando un attimino gli oggetti in foto e quindi si parte da delle basi. Poi dovete considerare che dalla foto all'oggetto, dal vivo c'è una bella differenza, anche se io posso percepire più o meno, però mi tengo la forbice e lì non si sbaglia mai. Quindi considerate tutto quello che ho detto, sono a vostra disposizione, mi chiamate, messaggi vocali su Whatsapp, la rete infochiocciavoceco.com per internet e via dicendo. Ok? E poi comunque YouTube rimane il cavallo di battaglia, perché YouTube ci permette intanto di arrivare in tutto il mondo. Voi non ci crederete, anch'io facevo fatica, però dai contatti che ricevo nel mondo. Intanto ci sono tanti italiani all'estero che sono appassionati e quindi quando vedono un italiano che parla, che magari non dice sempre fesserie, io non credo di dirle, mi seguono. Ecco, per cui è interessante, questo è YouTube. Dopodiché, senza andare all'estero, anche in Italia, mi si vede ovunque e c'è un sacco di gente che mi contatta, mi propone. Vedo che, per esempio, avevamo presentato il Brightling, mi avete già su YouTube, contattati in 3-4 che siete interessati, in più ho ricevuto richieste. Quella Brightling, l'Avenger, il Superlotion ha avuto un bel, anche lì, vedete, io faccio degli short che sono delle presentazioni di 40-50 secondi e poi le faccio girare in rete. Ma voi non avete idea di quanto si pesca. Ok, allora, andiamo sugli orologi, ecco, questo è il Sultan. Ragazzi, ve l'ho messo a un prezzo, oggi, oggi, ve lo metto a un prezzo che, come dire, non si può non prendere in considerazione. Tenendo presente questo fatto, il Sultan, in assoluto il più bello, è quello col quadrante grigiano, con diamanti e zafferi anche lui. Ok? Quindi non sto dicendo. Lo champagne è quello che piace, ma piace meno del quello grigio, se non che la variabile può essere il quadrante virato. Allora, quando tu trovi un quadrante come questo, che è virato e quindi perde tutto quel giallo che spara, che dà fastidio, perché il quadrante champagne è sempre stata una roba, solo durante la bolla ha cominciato ad essere richiesto, anche perché andava tutto. Dopo poi le cose sono ritornate come erano prima e quindi i quadranti champagne, se voi andate da qualsiasi commerciante di orologi e gli chiedete ma per caso, tra i vari quadranti, qual è il colore che più hai a disposizione? Tutti hanno lo champagne, non ce n'è uno, perché tutti gli champagne, tutti gli orologi e gli champagne, normalmente li sostituiamo con altri quadranti più accattivanti. Ma in questo caso è con l'eccezione che conferma la regola. Ascoltatemi quando parlo, io sto facendo l'imbonitore, io non è che devo per forza intortare qualcuno per vendere, però vi dico le cose come stanno. Chi mi conosce, a parte il fatto che quando mi vedete, mi dite, caspita, aspetta, in televisione sembri piccolino e poi dopo io ti vedo dal vivo che sei così grande. Mi hanno detto anche l'altro giorno quel che avete venuto a trovarci. Ragazzi, eccomi qua, è sempre un piacere comunque, se mi venite a trovare il negozio, primo avrete la conferma di quello che vi dico, che non sono piccolino, sono un 88 per cui proprio piccolo non posso essere, però mi ingobbisco davanti alla trasmissione e allora sembro più piccolo, perché mi concentro su quello che devo dire sugli orologi. Allora, scatole garanzia, l'orologio è del 91-92 per cui non ha la scatoletta bicolore, ha la scatoletta rigorosamente in acciaio. Completo la richiesta 15.500 e il prezzo è consolo al mercato. Vammi avanti e andiamo sul Submariner, questo Submariner, anche lui come periodo è lo stesso, lo si evince ancora dalla chiusura, che non è bicolore. L'orologio ha la garanzia del negozio e la richiesta 10.500, no, però ha anche la garanzia Rolex, quindi c'ha tutto, c'ha tutto. Come l'ho detto, chissà perché mi sono intestardito su questo? Ce l'ha, c'ha tutto, 10.500 con garanzia, ovviamente anche quella del negozio, ma la diamo a tutti, però quella più importante è quella Rolex. Andiamo avanti e siamo sul Submariner 610, quello del 91, prezzo 9.400, scatola e garanzia. E spedo, ma come presentatore non sei proprio il massimo, canni sempre. Vabbè ragazzi, ma io sono qui non per vendere, o meglio, sono qui anche per consigliarvi, per darvi delle indicazioni, perché se no sto qui, allora finisce tutto lo scopo. Lo scopo qual è? Quello di rendere un po' la trammissione interessante, perché sì, gli orologi ce li ho io, ma ce sono anche altri. Cosa metto il carico pesante? Il fatto che io dico delle cose, primo, che mi ascoltano quelli che vanno al parco a correre la domenica mattina e quindi sono d'aiuto per loro. No, è che serve darvi delle indicazioni, perché così intanto facciamo un interesse comune, voi dovete vendere gli orologi e io sono il veicolo per poterli vendere. Poi vi do anche delle indicazioni, per esempio molti non sapevano del fatto dello Snoopy che è uscito, lo Swatch, Moonwatch con lo Snoopy, serie speciale, per me l'hanno anche già finito. Comunque, va bene, andiamo avanti, 9.400 questo submarine e qui abbiamo invece il, quello che chiamano, purtroppo lo devo dire, no, 16610 LV, che è nuovo, ha i numeri nel Rio, la carta di credito, la richiesta 24,500. Cerchiamo di rendere, questo è quello che chiamano Hulk, che io invece lo chiamo, 16610 LV, preferisco usare la referenza, l'orologio è nuovo, completo, la richiesta anche lui, il prezzo dell'altro, 23,23 e mezzo. E qui abbiamo il scrittarossa Seed Weller, nuovo, completo, ringrazio l'amico che mi ha mandato a dire, guarda, fai attenzione che c'è questa voce e dovrebbero smetterlo di produrlo. Allora, io è già da tanto che lo sento, è anche tanto tempo che non lo consegnano, per cui ci può anche stare. Adesso c'è Ginevra, ci saranno delle presentazioni, ci saranno e ci informerà che non farà più. Vedremo, richiesta 16,5, che è un prezzo che direi di lasciar perdere, perché... E qui abbiamo il Daytona Chromalight, nuovo, completo. Ah sì? L'altro però lo era, perché ne abbiamo due, uno a pH e l'altro no? Va bene, non è a pH, ma chi se ne frega, sempre a Chromalight, 2016 l'anno, completo di tutto e con pellicole dappertutto. 27,5 la richiesta. Poi ragazzi abbiamo qui un altro Daytona Acciaio Oro, che mi state snobbando, non lo prendete in considerazione, ma è un orologio pazzesco, ve l'ho già detto tante volte, ribadisco, in assoluto del Daytona Acciaio Oro, quello che piace di più a voi pubblico è il quadrante nero. Quindi quando tu vedi Daytona Acciaio, è oro il nero. Se ci può essere, e sono rari dei quadranti che lo superano questo quadrante nero, sono il quadrante blu, che è raro perché normalmente lo vedi su tutto oro, però qualcuno, qualche concessionario, l'ha messo su e quindi Acciaio Oro col 40 e blu index, oppure con questo quadrante antracite, che è uno spettacolo dal vivo e eccezionale. Quindi, completo di scatole garanzia. La richiesta è 18. Vi ricordo che tutte le cose che hanno richiesta e che sono in un numero ridotto rispetto al resto della produzione, hanno un valore aggiunto. Da che cosa? Dal fatto che ce ne sono pochi e l'interesse è alto, per cui domanda e offerta, se la richiesta cede una, il prezzo sale. Ciò nonostante, ritengo che il prezzo di questo orologio sia molto interessante, considerando il fatto che ha questo quadrante. Guardate che io parlo di quadranti e molti mi dicono, ma il quadrante non è che può valere 3-4 mila euro. Invece no, ti sbagli, forse in questo momento magari, ma ci sono momenti in cui il mercato che è euforico, quando c'è il quadrante speciale, per non parlare dei colorati. Quindi questo è un dato di fatto. Proseguiamo sullo Yachtmaster Rollesium. Completo di tutto, condizioni ottime, lo vendiamo a 9500. Ok. Siamo ora sul GMT. Questa è la versione nuda e cruda. Ok. Allora, questo è un orologio che ho ritirato la settimana scorsa, abbiamo mandato in laboratorio, in laboratorio lo laviamo, lo controlliamo e lo presentiamo. L'orologio, questo è il classico orologio per chi dice voglio un GMT, lo voglio indossare, non voglio spendere tanti soldi perché che abbia la scatola garanzia mi interessa relativamente. Perché ragazzi sto parlando così? Perché ci sono, non tutti, perché la forbice genera, ma ci sono alcuni orologi che completi con scatola la garanzia hanno un valore, però lo paghi di più. Quindi faccio un esempio. Noi vendiamo questo orologio senza la garanzia a 9000 Euro, ma ne abbiamo un altro che invece è completo di scatola garanzia che vendiamo a 12,5. Quindi cosa cambia tra i due? Uno è completo, l'altro no. Ma se il completo lo pago a 12,5 e andrà in futuro, salirà a 14, 15 mila, quando il mercato ripartirà, il senza garanzia che lo pago 9, a sua volta andrà a 11, 12, ok? Credo di essere chiaro in quello che sto dicendo. Quindi non stai, ma io butto i soldi perché compro un orologio. Sì, ci sono momenti in cui è più facile venderlo completo che incompleto, ma se tu vuoi spendere meno soldi, vuoi portarti al posto un orologio che ti piace e non hai voglia di spendere, questi sono la tipologia di orologio, intanto mi capitano ed è talmente interessante la cosa che normalmente mi durano lo spazio di 2-3 trasmissioni, ok? Quindi GMT, questo è un GMT 1, quindi la referenza serie 700, qui a vostra disposizione 9000. Vammi oltre e vammi sul, ecco, un altro orologio interessante perché abbiamo prezzi completo con scatola garanzia, ormai come sportivo è diventato il primo prezzo, 8000 Euro, 16570 l'Explorer 2. A mio avviso non ci può essere una forbice così ampia tra l'8000 di l'Explorer 2, scatola garanzia e il 12,5 del GMT 2, scatola garanzia. Però tant'è che questa forbice non è che la decide lo spedo, lo decide il pubblico, perché è il pubblico che preferisce spendere e comprare il GMT che non comprare l'Explorer 2. Questa è una vostra scelta, posso solamente dirvi, l'ho già detto tante volte anche in passato, c'è sempre stato a una, come dire, a rotazione, a un certo momento io mi ricordo che la Rolex faceva mancare un articolo a rotazione che poteva essere Sporer 2, il GMT, il Seed Weller, il Submarine, lo Yachtman, ok? Così funzionava e quando mancava partiva l'interesse. La Rolex consegnava fino a, che dire, marzo, dopo poi da marzo a Natale non ne consegnava più uno e in nove mesi sparivano gli orologi e cominciava a esserci, non dico il sovrapprezzo dall'estino, ma comunque si facevano fatica a trovare. Questo è sempre stato a rotazione, era accaduto su tutto, quindi voglio pensare che se accadeva anche sull'Explorer 2 è solo al momento che è così, ma non può esserci questa forbice di differenza normalmente tra l'Explorer 2 e il GMT2, ok? Spero di essere stato compreso, poi eventualmente sono a vostra disposizione per spiegarmi meglio. Ecco, una cosa ne approfitto, se volete avete la possibilità col numero WhatsApp, perché io lo uso molto, di mandarmi i vocali dove mi chiedete le cose oppure mi chiamate, a me è sempre piacere parlare. Siccome poi, visto i tempi, io di tempo ne ho, i tempi sono, vuol dire che mentre una volta veniva, c'era tanta gente che si presentava in negozio per cui dovevi servire, adesso la gente gira meno, ti contatta con la rete o il telefono e quindi è tutto molto… tu molte volte dici, ma io il negozio perché lo tengo? E allora poi riflette e dice, ma io il negozio ce l'ho dall'89, vedete voi, il che serve anche a dare un supporto a tutto quello che noi facciamo con la televisione, con la rete, c'è un punto di riferimento, un negozio che lì dà 36, 36 e quando io dico 36, 36 la gente riflette e dice, se questo qui è lì da 36, proprio un bandito non deve essere, ok? Questo è il concetto, quindi ci sono tante le cose per cui voi, quando io parlo, voi potete capire se dico delle cose con cognizione di causa. Io per esempio mi sono fatto, e non sono uno psicologo, però quando ti si ripresentano sempre le stesse cose, tu cerchi di capire e di proiettarti avanti, a me piace il gioco delle scacchi proprio perché tu pensi la mossa successiva ma ti devi ancora fare quella del momento e quindi uguale col lavoro, a me piace sempre pensare un po' più avanti perché è meglio, ti porti avanti e ti aiuta. Quindi ti si presentano più o meno sempre le stesse cose. Ad esempio, ho cominciato, lo dicevo già in altre trasmissioni, quando interagisco con una persona cerco di capire un po' chi ho davanti, se è una persona sveglia, ma cercate di capire, non sono offensivo, sto cercando di darvi l'indicazione. Quindi mi parla, io percepisco che il ragazzo è sul pezzo, poi mi lascio il numero, se per esempio mi dà un numero di telefono, 335, che è il mio e che ce lo dà più di 20, già dico questo è un signore che merita un certo tipo di attenzioni. Perché vi sto dicendo questo? Perché mi metto dalla parte vostra. Ascolto e dico, ma questo sta dicendo delle cose per quale motivo? E quindi io sappiate, perché molti non l'hanno capito, che ogni cosa che io faccio è da me stesso studiata attentamente. Mi riallaccio per esempio al prezzo su richiesta. Ragazzi, a me piace far vedere gli orologi, ma quando mi rendo conto che se dico il prezzo e il prezzo è non ricevibile da parte di chi è appassionato e non ho voglia di farmi tutte le pippe col cliente, ma di là costa meno, addirittura l'altro giorno dico al signore il prezzo, che non era scandaloso, questo è un GMT, un GMT quelli pellicolati che ho, quelli con carta di credito numero di O31,86 per intenderci, GMT quello bello, quello che non ce n'è, però dico un prezzo che poi sbaglio peraltro perché è più caro, ma fa niente, ormai l'ho detto, questo mi risponde, scusi mi sfugge qualcosa, ma è in oro bianco? Allora io sulla chat, se ero come dire in diretto, gli dicevo qualcosa, che però mi sarei pentito e quindi meglio così, sulla chat che sono video sorvegliato, perché io sono già recidivo, mi hanno già dato il cartellino giallo più di una volta, perché io rispondo a tono e quindi loro non vogliono, perché la piattaforma deve essere rispettata e il fornitore deve rispettare il cliente, il cliente può dire quello che vuole, come scrivermi anche coglione, come ha scritto, mentre io invece devo subire, allora io gli scrivo scusi, mi chiede il prezzo di una roba dove io ho messo prezzo su richiesta, se ho messo prezzo su richiesta è perché non voglio dire il prezzo, ora mi tocco a dirlo perché me lo chiedi, mi fai la battutina e io ti dico scusa, perché mi vorrebbe voglia di dire, ma rimbambito che non sei altro, ma se io metto prezzo su richiesta e ce ne sono altri dieci che hanno il prezzo, ma perché non compri uno di quelli che ha il prezzo, pensi che io ho messo prezzo su richiesta e che sia inferiore al primo prezzo che vedi, allora sei proprio un tonno, tonno nostromo, non posso dire queste cose, posso dire che guardi, lei sia gentile, non faccia perdere tempo e compri l'orologio del quale vede già il prezzo, nelle stesse condizioni del mio, ma di uno vedi il prezzo e l'altro vedi il prezzo su richiesta, non andare a rompere, perdiamo tempo in due, perché non ci arrivi da solo che non può essere inferiore al prezzo che già vedi, ragazzi questo per dirvi che non sono tutte rose il nostro lavoro, ci sono anche le spine e queste sono spine, ritornando a questa cosa che io vi sto dicendo, che voi probabilmente che mi ascoltate state pensando, ma dove va a parare lo spedo? Allora vi ho fatto le pedie come mi muovo io e così dovreste fare anche voi, io vi do delle indicazioni e voi, ve l'ho già detto, tanto non c'è problema di smentire, i lestofanti tra i commercianti sono spariti tutti, una volta c'erano quelli che facevano i vari magheggi, i vari codi con l'orologio, prendevano cinturì, bracciale, numeri che non correttavano, una volta andava bene tutto, oggi voi ne sapete più di noi, quindi se uno è sveglio va in trasmissione e gioca a carte scoperte, anche perché se gioca a carte scoperte non va da nessuna parte, quindi io quello che dico, lo dico, intanto sono cristallino, quindi nel bene e nel male il sottoscritto è così, forse è per quello che magari per quei pochi piaccio, per cui io dico le cose come stanno, vi do delle indicazioni su quello che io penso del mercato con l'esperienza anche dei 40 anni di lavoro, quindi sono utile, guardate che lo spedo è utile ed è talmente utile, ogni tanto mi invitano anche nelle università, oppure adesso c'è una cosa, un meeting con una banca dove parlano di investimenti su tante cose, tra cui anche gli orologi, quindi dico tutte queste cose perché chi ha le collezioni, chi è già avanti e chi ha dei dubbi sul nostro mercato in questo momento, forse sentirmi può essere d'aiuto, no? Non c'è bisogno che mi dica, perché non tutti siamo sicuri, no? Di sicuro c'è solo la morte, quello lo diceva mio, però ci sono delle cose dove tu hai delle indicazioni, dove tu sai che è sano questo nostro mondo, quello degli orologi, è un mondo sano, sostenuto da una cosa fondamentale che è il piacere di avere un oggetto carismatico al polso, io in alcune trasmissioni dicevo dimmi che orologio hai al polso e io ti dirò chi sei, sembra una sciocchezza ma con l'esperienza di viene ed è vera, perlomeno parlando anche con i miei colleghi di vecchia data, questo è quello che vi posso dire, quindi tu hai il sostegno di questa voce più il fatto che questa cosa la colleghi al fatto di possedere l'oggetto che ritieni giusto e quando è giusto, quando hai anche tante altre persone che la pensano nello stesso modo e ti conferma che tu è la cosa giusta, sono tutte cose che sembrano banali, ma ragazzi a me sembra che pochi si fermino a riflettere un attimino sulle conseguenze delle situazioni di mercato, ma non è un problema grave, è importante che la gente che ha dei dubbi ascolti anche chi dubbi non ne ha, vi ripeto io non ho dubbi, il mercato virgantisco che ripartirà, ripeto il mercato, quando ragazzi se lo sapessi andrei al mare, starei là in Liguria, aspetto che passa il tempo e mi presento quando riparto, quindi tranquilli, abbiate fede, ancora l'esempio ve l'ho fatto con lo Snoopy, ma ve lo faccio anche su altre cose, per esempio gli oyster colorati, gli oyster colorati da novembre, dicembre, gennaio, febbraio, ma quei cinque mesi lì si inchiodano, poi quando cominciano a venire fuori le belle giornate, cominciano, ma c'è quel quadrante lì, molti non sanno neanche che la Rolex aveva fatto i colorati, perché non tutti sono lì sul pezzo che è, quindi li vedono, scatta l'interesse, ma è originale, ma è vero e riparte il mercato dei colorati e così riparterà il mercato di tutti quegli orologi che tendenzialmente vi faccio vedere io e nel quale sono convinto, dovevo dire questo perché così almeno per quei signori titubanti abbiamo cercato di togliere la titubanza. Andiamo avanti perché ho ancora qualche orologino da presentarvi, ecco qui il Wimbledon, noi abbiamo una chat, la chat tra commercianti, dove ci presentano degli orologi con i prezzi da commercianti, poi alcuni commercianti comprano lì e poi ci mettono il ricarico, che non è che può essere, vi garantisco che nella chat chiedono 13,8, io ve lo propongo a 13,5, quindi sono corretto col prezzo, è vero che non è il listino quello, è chiaro, però ragazzi, il Wimbledon è molto richiesto e quando esce c'è già chi l'ha acquistato prima di voi. Andiamo avanti, il ghiera in oro bianco, è importante, il ghiera liscia, questo è il 126,200, questo è un 36, mentre invece quello di prima era un 41 mm, la richiesta 9 mila euro, nuovo completo, e qui abbiamo il 36 mm Tiffany, eccolo qui, molto bello, a disposizione, 13.800 euro, completo, nuovo, ha il cartellino con il, si chiama il digit, no, com'è che si chiama il numero? Va bene, ha il numero di riferimento del quadrante, quindi siamo tranquilli, perché vi dico questo? Perché fate attenzione, l'orologio col quadrante colorato ha un valore raggiunto, se però il quadrante originale, come fate a sapere se è originale oppure no? Lo sapete se il commerciante che vende è una persona seria, quindi cercate di comprare queste cose da chi vi potete fidare, ok? Andiamo avanti, quindi sto sottolineando che dello spedo vi potete fidare, ogni tanto me la suono, me la canto e me la ballo. Dayjust, vetro zaffero, 36 mm, bracciale giubilè, completo di scatola, garanzia e il quadrante ore romane applicate, 7.500 euro. Boy, il Boy 31 mm, ma senti, che fine ha fatto quel Boy che avevamo acciaio oro rosa? L'abbiamo veduto? L'avevo rosa? Ah ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, l'abbiamo presentato all'altra 8, quello là è spettacolare, mi piace da male. 31 mm, quadrante nero, incompleto, ha la garanzia del negozio? Però ragazzi, udite, udite, Rolexino 4,8, 31, non il ledino piccolino, il Boy, quello che le signore adesso apprezzano, perché ormai il ledi lo possono portare solo le persone che hanno i polsi veramente ridotti, al minimo. Andiamo avanti e quando parlo di polsi ridotti al minimo, ecco qui gli orologi per i polsi ridotti al minimo. Due Omega sono nuovi, completi, l'acciaio e l'oro, quadranti e diamanti, completo di scatola e garanzia, non sono più in prestazione, sono della produzione, mi sono mangiato le parole, non sono più in produzione e la linea è Deville, prezzo, l'acciaio 2000, l'oro 5000. Ballon bleu e Cartier, eccolo qua, la misura grande, automatico, è un inusato pari al nuovo, mai messo, prezzo 4.900 Euro, completo di tutto. Qui abbiamo il Carrera, Carrera è nuovo, completo, scatto le garanzia, 3.500 Euro. E poi abbiamo il Safari, allora non ve lo prendo in mano perché l'orologio è nuovo, quindi lo dico io, vi dovete fidare, punto. Completo di tutto ed è il primo Safari che è uscito da Lodemar Piguet, l'anno credo sia, potrebbe essere 2002, comunque Mark 1, da che cosa si evince che è il primo? Dal fatto che tasti e corona sono in cauciu, dopo poi in un secondo tempo li hanno fatti in ceramica, ma se mi chiedete meglio ceramica al caociu, meglio la ceramica perché la ceramica ha una tempistica di vita nettamente superiore al caociu. Altrettanto vero è che se il Mark 1, che è quello che di solito vale di più, è stato fatto così, così deve essere. Nuovo, completo, il Safari che vi garantisco come off-shore assieme al nevi, che è quello che ha, anziché il beggiolino, ha il colore bianco, ma le ore sono azzurre, azzurro, azzurro, blu, blu, azzurro, sono gli off-shore che hanno avuto più successo, cioè quelli che sono piaciuti di più. La richiesta 25.000 Euro e qui abbiamo l'Aquanaut, anche questo Mark 1, stiamo parlando del 50-60 Aquanaut, completo di scatole, garanzia, l'orologio del 90-98, quindi stiamo parlando di quando è uscito il primo Aquanaut, dopo ci sono state le evoluzioni, ma questo è in condizioni di fare il nuovo, questo è il classico orologio da collezione, abbiamo messo il cinturino nuovo perché avevamo la possibilità, non si trova più perché non fanno più danni questo orologio qua, la richiesta 45, scendiamo un attimino perché mi piace, però vi voglio dire questo, tanti orologi nel mercato hanno preso incremento di valore e poi si sono ridotti, questo è l'unico che ha tenuto, parlo del 50-60, ma lo stesso discorso vale dell'ultimo 51-67, hanno tenuto il prezzo perché la Patec non li consegna, ne dà a concessionario uno all'anno, per cui potete pensare che di questi orologi ce ne sono veramente pochi in giro, ok? Andiamo avanti e siamo ora sul portoghese, il portoghese, il tradizionale, sembrava che aveva la riga invece un riflesso, lo tengo giù? Eh lo so, va bene, comunque ha le ore dorate, quindi è il tradizionale, è il base, ok? Perché il bianco con le ore blu l'abbiamo venduto, l'avete visto l'altra puntata, completo di tutto, scatola, grazie, condizioni, pare nuovo, ragazzi questo è un'icona, quando tu parli di EVC e ti viene in mente un orologio, come Yeager ti viene in mente il reverso, EVC ti viene in mente il portoghese, ok? Diametro 42, la richiesta 5.000 Euro. Questo è il Brighton Super Ocean Avenger, non lo tocco neanche perché tanto settimana prossima non c'è più, il primo che arriva meglio alloggia, ok? Vi dico da buon intenditore poche parole, ho tante richieste su questo orologio, guardate che non lo sapevo, se non l'avrei tenuto un po' più alto di prezzo, ok? E' che la gente lo vede, il prezzo è interessante, 3.500 Euro, avremmo dovuto mettere la 3,9 Euro, ma vabbè. Andiamo avanti e siamo ora sul Tudor, Tudor comunque lo dico perché magari non l'ho detto abbastanza, se voi guardate tutta la collezione Tudor, andate a vedere, è stata la prima casa che ha puntato tutto sulle riedizioni di cose che andavano in passato, in questo caso le scritte guilt, quelle dorate, per esempio richiamano gli orologi sportivi degli anni 60, dopo le hanno scritte bianche, ma precedentemente dorate e queste dorate hanno un valore aggiunto. Vagano di più, il coroncione, c'era un submariner militare, così, senza date, tutto l'hanno fatto uguale, insomma, non si inventa nel mondo dell'ologeria, hanno fatto di tutto, per cui inventare cose nuove non è facile, però rinnovarle sì e qui hanno fatto un bel compromesso con tutta la collezione. Ok? Va bene. La richiesta 3.800 euro. Abbiamo poi il Tudor Prince Date, l'orologio completo di scatole garanzia e in condizioni pari al nuovo. La richiesta 7.000 euro. E poi abbiamo, puoi inquadrarli tutti e tre insieme, ah no, no, non puoi inquadrarli, scusa, ho detto una cavolata. Questo è l'Alain Silverstein, stiamo parlando di orologio al quarzo. Ok? Però Alain Silverstein è un brand che funzionava molto negli anni, fino anni 90, fino anni 90, quindi 99, 98, 99. E era uscito con tutte queste cose un po' particolari. Perché piacque? Perché si veniva da un periodo in cui gli orologi erano tutti uguali, statici. trovare qualcuno che faceva qualcosa di nuovo, con le lancette particolari, i colori, i tasti, vedete, uno rosso, uno nero. Cioè, era una casa che aveva avuto molto successo. Mi ricordo che c'era un crono che andava per la maggiore, da 4-5.000 euro, il movimento mi sembra che fosse un valgiù. Ah, aveva un grosso appeal. Comunque, richiesta per questo orologio, in completo, 3.000 euro. E poi abbiamo, questi sì che li puoi far vedere, il sorciverdi e il, qui stiamo parlando di terra, cielo, mare. Va bene? Come lo... perché qui vengo redarguito perché ogni tanto cambio l'ordine della... Allora, quello al bronzo è sorciverdi. Lo chiamano topone. Sembra, guardate, sembra... avete presente gli orologi cipolla? Siccome gli orologi da tasca non li mette sbiuso nessuno. Allora, cosa si sono inventati alcuni colleghi? Li mandavano dei cassisti, gli facevano fare la cassa, quindi col movimento tutto e poi vedete la carica laterale perché non puoi lasciarla a ore 12 tradizionali perché sennò diventa intanto una cosa che ti dà fastidio, ma poi fai fatica a caricarlo. Così hanno trovato questo compromesso e quindi 1900 euro, di conseguenza stiamo parlando di un carica manuale. Vedete che ha anche il fondo, eccolo qua, vedete? Anche questo, carica manuale. Cioè è sempre lo stesso, sempre carica manuale, ma... ok, va bene, col fondello aperto, così almeno vedete che è, come vi ho detto. E poi è la Lamein, questo è sempre cielo terra male, la cassa è in PVD, 1300, sono orologi nuovi, completi di scatto, la garanzia. Cielo terra mare, eccoci qua. Allora, ricordo, tutti gli orologi che vi ho presentato sono orologi che vengono poi, anzi, precedentemente controllati, malati in laboratorio, l'iter famoso, no? Che vi dico, lo facciamo per tutti gli orologi e per tutti gli orologi poi diamo la garanzia di 12 mesi, in che non vuol dire che sono stati revisionati, perché se sono da revisionare ovviamente lo facciamo, ma se non sono da revisionare è un costo che non ci vogliamo, che non vogliamo aggiungere all'orologio, che non ne ha bisogno. Poi tenete a prendere la revisione, non è che va fatta ogni giorno, va fatta una volta ogni 8 anni, ok? 10, 11, 12 anni, ok? Dipende come lo portate l'orologio. Certo che se voi mi lasciate gli orologi in cassetta, 4, 5 anni, 3, 4, 5 anni fermi, quello non va bene, ragazzi, ve lo devo dire che il lubrificante si asciuga un po' e quindi dopo invece di lubrificare frena e quindi gli orologi ritardano, ok? Cioè, ragazzi, usate, la cosa che mi sento di dirvi, usate la logica, non c'è molto, l'orologio poi non devi sbattacchiare, lo prendi, li carichi, sono tutti automatici, vai lì, li carichi, vedi che vanno, li metti in orario, certo che non puoi andare tutti i giorni in cassetta, però se ce li hai e siccome è un valore, sei costretto ogni 2 o 3 mesi ad andare e a farli andare, ok? Fatelo nel vostro interesse, non è una roba che è nel mio, è nel vostro, ok? Anche perché poi dopo, quando decidete che li volete vendere, gli orologi devono andare, perché chi compra a sua volta deve venderlo, nel caso specifico nostro lo dobbiamo vendere garantendo e quindi se me lo date che è da fare la revisione, il valore viene decurtato dal costo della revisione, sono tutti i orologi che vengono controllati, da noi li laviamo, se sono da revisionare li revisioniamo, ma in linea di massima se non hanno bisogno non li revisioniamo, anche perché vi ricordo sono cose che devono essere, se le avete in cassetta avete bisogno ogni tanto di andarci, caricarli questi orologi perché hanno bisogno di andare, se voi li tenete fermi per 3-4 anni c'è la possibilità che il lubrificante si asciughi e quindi poi ritarda, ok? Questa è una cosa nel vostro interesse che tassativamente dovete fare. Va bene, è stato un piacere, alla prossima da Marco Spedo e da Watch & Cock, buonasera a tutti voi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.